Buonasera cari amici followers, poiché oggi, domenica 13 dicembre 2015, una dose massiccia di whisky non è servita per placare l'ira funesta, anche perché sto subendo sabotaggi a ripetizione all'interno di casa mia, voglio allora lasciare un messaggio perenne al pianeta a terra, alla è un porco, ci vediamo nei prossimi videomessaggi.